Sì, non è che ti vengo a prendere. Non reggo mica Steio, ti faccio andare avanti. Tanto uguale, sono 11G, 12. Guarda che questa è la gara, ma puoi farmi andare avanti? Grazie, abbiamo iniziato. Trampoli della marcia, scambiamo le potele delle patelle, così facciamo. Se fermiamo subito, togliere meglia? Sì. Ok. Ma io lo faccio ancora. Non scambiamo neanche le gomme. Ma va? No, non vogliamo incontro! Ti raccomino! Non garantisco niente. Sì. 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 Attenzione qui. Adesso ci saranno i quattro azionafori che si accenderanno un attimo. Una volta che si spengono dovete partire, non prima. Mi raccomando, siete definiti di sorpassi, sorpassi puliti, perché sennò vi piccate due velocità in meno fino al giro. Ok? Sì. Va bene. Ho sentito un po' proprio solo, ho capito. Hai capito? Insomma, il fatto di sennò si puliti. Ah no! Il fatto di puliti, non vediamo perché se lo spengono. Quando si spengono tutti si parca! Quando si spengono si spengono. Freno giù, acceleratore giù o no? Da! Sì. Sì. We gotta do, ma si spengono. A ragazzi non serve. Sì. M'è? È un altro�istico. È un altronymile. Perché? È un altro�istico. È un altro�istico. È un altro che è una gente. È un altro giudizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.